Capitolo 7 L'Estasi e il Dovere, da Caravaggio al Principe Bolkonski Il trionfo della meglio gioventù a Cannes ha segnato un grande cambiamento nella mia vita professionale, donandomi la libertà, credo, più ambita per un attore, quella di scegliere che ruolo interpretare senza dover per forza fare provini. Subito dopo quel successo mi sono trovato sulla scrivania decine di sceneggiature e ho potuto perdermi in mondi lontani con il lusso impagabile di decidere quale abitare. È difficile descrivere cosa porta a scegliere un personaggio, cosa convince a trascorrere lunghi mesi in intenso dialogo con qualcuno lontano da sé che sia storicamente esistito oppure uscito dalla penna di un autore. Nel mio caso a colpirmi è sempre l'altrove, la lontananza, ma deve anche arrivarmi qualcosa di forte, un pugno nello stomaco. Adoro misurarmi con personaggi completamente diversi da me. Più sono lontani e più mi attraggono. Mi piace portare sul palco o sullo schermo, se è possibile, la radicalità estrema, al di là del bene e del male, tutto ciò che non posso o che non vorrei vivere nella mia esistenza di uomo comune. Forse per questo sono stato attratto da grandi classici del passato, in particolare dai testi in cui i sentimenti sono rappresentati in modo vivido e assoluto, come quelli aderenti al canone del romanticismo, in cui le passioni avvampano e travolgono tutto. Per esempio nel 2004 è stato questo a colpirmi Nedcliffe, il protagonista della miniserie Rai Cime Tempestose, per la regia di Fabrizio Costa e la sceneggiatura di Salvatore Basile ed Enrico Medioli, in cui ho recitato accanto ad Anita Caprioli. Mi sono preparato ad incontrare quell'uomo ossessionato da un amore impossibile, andando a visitare i luoghi dove Emily Bronti, l'autrice del romanzo, l'aveva immaginato e creato.